Grazie David e a seguito di questa panoramica illuminante per tanti aspetti credo che adesso il professor Santo di nuovo come logica proseguimento ci parla un po' della ricerca. La ricerca in psicoterapia non si tratta solo appunto di aumentare gli interventi ma utilizzare un metodo che sia un metodo scientifico, questo anche per farci apprezzare. Bene, grazie per l'invito. Io sono veramente contento di essere qui, intanto togliermi la mascherina, questa è la prima cosa di cui bisogna essere contenti e poi di vedere le persone in viso. Io come personalità iperattiva dall'infanzia ho dovuto passare due anni di tragedia davanti al computer, ieri pensate che ho dovuto fare una doppia, avevamo la presidenza dell'EFPA, quella internazionale, e un convegno a Firenze con due computer parlando da una parte e dall'altra. Una cosa allucinante, schizofrenica e quindi mi fa piacere che oggi siamo tornati alle dimensioni normali. Ecco, detto questo io parlerò di un argomento molto specifico che riguarda la psicoterapia, quindi mi scuso anzitutto con tutti quelli che sono qui, che non sono psicoterapeuti e che non vogliono diventarlo, cosa che ha tutto il mio rispetto, però che forse non... La mascherina te la deve portare. Allora, l'intervento di Lazzari e di Davide è stato illuminante dal punto di vista perché pone le basi per poter dire come la ricerca sulla clinica, sulla psicoterapia, è molto diversa da quella che abbiamo visto presentata. E proprio da questo vorrei cominciare. I clinici possono essere anche ricercatori? Queste parole sono prese da un libro di qualche anno fa, tanti anni fa, vedete, nel 1976, proprio quando io cominciai a lavorare, vedete quando sono anziano. Abbiamo bisogno di studi controllati sulle relazioni teoriche fra le variabili, diceva questo libro di uno studioso americano, Brehm. Abbiamo bisogno di una cornice teorica per operare come clinici, e fino a qua va benissimo. Ma il clinico non deve compiere egli stesso questa ricerca. Deve tenersi informato su di essa. I ricercatori di base e i clinici stanno in un rapporto produttivo, simbiotico, la parola simbiotico è un po' equipoca, però comunque. Gli uni tracciano i principi generali, gli altri li applicano al mondo reale. Ecco, una specie di ingegneria informatica. Uno si informa come funziona l'informatica, poi dopo di chi usa il cellulare e basta. Non pensa come è fatto, perché funziona, come funziona. Quando lessi questo libro, io lavoravo col professore Angelo Majorana, il mio maestro psicologo, e fra l'altro cugino di Ettore Majorana, quindi che di ricerca ne capiva, di famiglia. E gli disse, professore, ma lavorando in una clinica, una clinica psichiatrica, quindi con pazienti gravi lavoravamo, dico, ma come è possibile, che cosa dobbiamo fare, che significa questa cosa qui? Io ero già assegnista all'università e quindi mi posto questo problema. Dico, ma che cosa vuol dire? Lui mi disse molto semplicemente che la clinica, i ricercatori devono farla in ogni caso perché, e mi citò Freud, che proprio era l'unico che non mi aspettavo che mi citassi, il quale ha scritto che ogni psicoterapia non è forse essa stessa una ricerca scientifica. Quindi diceva, che stiamo dicendo? Se in altri cambi è possibile una cosa di questo genere, quando uno lavora sulle persone per modificarle alcuni caratteri, effettivamente deve scegliere se deve fare un'attività scientifica oppure se deve fare un'arte. Cosa che molti hanno detto, che la psicoterapia e la ricerca clinica in effetti è come l'arte, si impara a bottega e tutto quanto. Ovviamente noi abbiamo scelto di fare un'attività scientifica, mi pare. Il problema è allora che senso ha che uno non fa ricerca sulla psicoterapia perché la fanno gli altri, perché la fanno i ricercatori. Bene, la ricerca sulla psicoterapia esiste da tantissimi anni, ci sono lavori sterminati. Vi ho messo le copertine di questo, sempre più grandi man mano che sono più vicini, dal 71, il primo Handbook of Psychotherapy and Behavioral Change, di cui siamo arrivati ora all'ultima edizione proprio dall'anno scorso. Che tratta questo tema, cioè ricerche sulla psicoterapia. Se la psicoterapia funziona, se la psicoterapia è un placebo, tutto quello di cui abbiamo sentito parlare e che conosciamo, probabilmente, ecco tutto questo è scritto in questi volumoni che trattano fra l'altro la psicoterapia per tutti gli orientamenti. Quindi anche orientamenti psicoanalitici, psicodinamici, relazionali, sistemici, tutti i vari capitoli trattano della ricerca nel mondo fatta su questo argomento. Una letteratura sterminata. Secondo quel signore lì che vi dicevo prima, quel brem, uno psicologo clinico dovrebbe leggersi questi libri, magari sono scritti in inglese purtroppo, quindi c'è anche il suo problema, però leggersi questi libri, scegliere magari la terapia che uno sta facendo, leggersi quel capitolo e poi applicare. Ma funziona così? Cioè voi pensate che una cosa del genere può funzionare? Se legge un libro e poi capisci come fare scientificamente? Sicuramente no. In Italia, fra l'altro, l'SPR, questa società diventava di ricerca in psicoterapia, una società che si occupa di questo proprio esplicitamente, e mi vanto di aver fondato, di essere uno dei fondatori di questa sezione italiana, nel 1995 fu fondata la sezione italiana con questa rivista che si chiamava ricerca in psicoterapia e che ora si chiama, in inglese, perché un maestro deve scrivere in inglese, se no non ci legge nessuno, o per meglio dire non funziona per la parte accademica, la ricerca in psicoterapia che ora ha questa rivista che ancora continua a uscire. Anche lì tantissimi articoli, tantissimi... Ci vogliamo chiedere le ragioni per cui stiamo discutendo di questa cosa, cioè per chi mi avete chiamato a parlare di questa cosa, perché si deve valutare scientificamente una psicoterapia, un intervento clinico, vi direi, non parliamo solo della psicoterapia, parliamo dell'intervento clinico, anche se quei volumi parlano della psicoterapia. Quindi perché valutare, che cosa valutare, quando collocare la valutazione, come e con quali strumenti fare questa valutazione. Cominciamo dal primo, ovviamente molto sintetico, però spero, la sintesi è poco prevedibile a priori. Allora, per chi è valutare? Ci sono due possibilità. Uno è valutare l'esito, cioè quello che noi chiamiamo efficacia. Ha funzionato? Eppur funziona, come diceva, panfrasando la cosa di... L'altro problema di valutazione è completamente diverso. Non è vedere se ha funzionato quando è finita, ma vedere come ha funzionato. E quindi, fra virgolette, capire se non ha funzionato, capirlo prima. Non quando alla fine uno dice, pazienza, ci avrà rimesso lui dei soldi, il paziente paga, no? A meno che abbia il bonus psicologico, non lo so ora. Comunque, in ogni caso qualcuno paga. Il terapeuta ci avrà perso un po' di tempo, avrà guadagnato un po' di soldi, comunque alla fine dice, vabbè, depresso era, e depresso era stato. Se invece uno monitora le procedure di trattamento, magari se ne accorge prima, comincia già a dire, oh, come fanno a scuola? Perché a scuola questo fanno. Il piano valutativo della scuola non finisce dopo l'anno, dice ora, lo parlo dall'inizio dell'anno scolastico e alla fine, e casomai lo boccio poi dopo. No, c'è un piano di trattamento per cui uno monitorando un insegnante. Quindi una logica abbastanza comune, scientifica, ma comune anche. L'altra cosa importantissima del perché valutare è verificare le condizioni alle quali le procedure sono più efficaci. Perché, purtroppo, i manuali parlano di procedure in generale. Ma una cosa è fare una terapia con una persona X, una cosa è fare una terapia con una persona Y, pensate con un immigrato, con una persona che viene da un contesto socioculturale dove non capisce manco le domande che gli vengono fatte, e tutto quanto. Cioè, questo cosa significa? Significa che dobbiamo contestualizzare il processo. Quindi, non solo efficacia. L'efficacia va valutata pure. Non sto dicendo che quella prima parte si deve cancellare. Perché poi il manager dell'ASP ci chiede quello. Hai avuto successo nella psicoterapia? Altrimenti, chiudiamo, ci tagliamo la psicologia. Non mi pare giusto. È corretto. E Davide, lo ha detto, ha dimostrato tanti studi di efficacia. Quindi, contesto, significa caratteristiche del terapeuta, del cliente, del setting, e così via. Cosa valutare? Inizialmente si era pensato in questi studi sulla psicoterapia, seguendo quella logica di quel brem che diceva c'è chi fa la ricerca, che ha tempo di perdere e fa la ricerca, avevano fatto dei manuali in cui le terapie erano manualizzate. Ve lo ricorderete? Volpi, nelle terapie comportamentali, ma anche sui borderline sono usciti dei manuali dove si diceva proprio passo per passo quello che si doveva fare. Come se tutti i pazienti fossero uguali, tra l'altro. Ok. Ovviamente queste terapie manualizzate seguono quella che è l'ottica sperimentale. L'ottica sperimentale è quella che abbiamo visto negli esperimenti dimostrati da Davide prima. Ecco, quelli sì sono esperimenti che vanno fatti con un certo tipo di metodologia e che non può fare probabilmente chi lavora in un'ASP. Ora ci arriveremo, perché sono due mondi diversi, ecco, e non ci dobbiamo confondere, perché se no uno dice vabbè quella non la possiamo fare, che ci sta raccontando. Ok. Quindi terapie manualizzate con clienti e gruppi preselezionati con tecniche standardizzate, proprio c'è scritto che cosa si deve fare. Non sono più ora queste manuali, ma ai miei tempi quando abbiamo iniziato c'erano proprio queste manualoni sulle terapie impressionanti. E quelli erano i manuali per poter fare poi la verifica. Se hai fatto questa verifica allora poi dimostrami che ha funzionato. Non funzionava, infatti li hanno abbandonati. Invece c'è quest'ottica che viene chiamata ecologica, che sono le terapie nel setting naturale, cioè dove le fate voi, cioè chi di voi fa ricerca clinica. Quindi con clienti non preselezionati, quella che viene chiamata comune pratica clinica. Come psicologo di base, senza offesa, perché mi diceva Davide che qualcuno, qualche parlamentare, diceva che la psicologia di base è quella scadente. Vabbè, perché non sanno manco cosa significa la psicoterapia. Quando valutare? Ecco, se noi entriamo in un'ottica di outcome, cioè di esito, di efficacia, dobbiamo valutare prima, dopo e anche nel follow-up. Voi sapete che c'è sempre questa fase di follow-up dopo tre mesi, ma i benefici si sono mantenuti oppure no? Se non sono mantenuti allora non ha senso. Capite che è una logica tipica dei farmaci da cui poi tutta quella ricerca sull'effetto placebo bla 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 perché nell'ottica dei farmaci c'è da dire ti do questo farmaco vediamo come ha funzionato il medico gli dice signora fra una settimana mi dica suo marito come sta giusto? Questa è l'ottica più come dire clinica più semplice e la signora ci dice sta ancora male allora venga e cambiamo la terapia ok diciamo la pratica ma rispecchia un'ottica di farmaci però il follow-up significa se io gli levo questo farmaco riprende a stare male e questa è una logica di outcome mentre se entriamo nella logica del processo quello che dicevamo prima cioè seguire la terapia l'intervento chiamiamolo intervento clinico qui c'è scritto terapia sempre comunque qualunque tipo anche il counseling dobbiamo monitorarlo come abbiamo detto cioè dobbiamo andare vedendo come funziona e allora si deve fare per tutto il periodo cioè io ogni seduta ma devo scrivere se vi dicessi una cosa del genere tutti mi dicono ma se ne passi contando il lavoro che ho da fare ogni seduta mi metto a fare il report del test di questo quindi per l'altro non si fa non è questo che si propone in fasi campionate sì per esempio una volta ogni mese a seconda del tipo di psicoterapia chiaramente quante sedute sono ogni quanto tempo si può fare questa verifica e poi il problema è con quali criteri l'altro punto come valutare sempre al solito se noi andiamo nella ottica di verifica dell'ipotesi cioè dell'esito ipotizzo che questo depresso alla fine della terapia sarà meno depresso o che comunque non si suicida almeno ecco in questo caso ci vogliono degli strumenti più quantitativi quindi ci vogliono test psicometrici batterie qui abbiamo il professore Micheline che è uno degli autori di una batteria delle più utilizzate da questo punto di vista il CBA è una delle migliori quelle che utilizziamo pure noi che sono dei test psicometrici io misuro prima e dopo e nel follow up quanto è il livello della depressione quindi in un'ottica quantitativa posso dimostrare un abbassamento della parte sintomatologica e così via in quest'ottica sono possibili anche confronti intermodello cioè può fare il test uno che segue un certo tipo di orientamento terapeutico lo può fare anche un altro che ne segue un altro purché usi lo stesso strumento il CBA so che lo usano anche gli psicanalisti per esempio sono utili dei metodi statistici perché alla fine poi bisogna fare un prima dopo quindi una verifica ci vuole una competenza di tipo statistico che è la ricerca tradizionale che veniva fatta sulla psicoterapia i primi studi i primi libri che vi ho mostrato all'inizio erano pieni di questo tipo di ricerca di ricerca in cui per esempio si confrontavano i gruppi col famoso gruppo placebo che è applicato alla psicoterapia mentre nel senso che lo diceva prima Davide Lazzari va benissimo ma era un altro significato nel caso della psicoterapia è paradossale perché che cos'è il placebo della psicoterapia lo sapete che cosa usavano come metodi per il placebo della psicoterapia gruppi di discussione fatti con un assistente sociale qualcuno che non era psicologo però in cui parlavano del più e del meno ma prendete conto che prima cosa il problema è di tipo etico tu metti una parte delle persone che hanno bisogno di una psicoterapia le metti a chiacchierare con un servizio sociale ma chi ci mette quelle meno gravi evidentemente perché gli altri per quanto siano gravi non ci stanno a una cosa di questo genere vogliono essere curati ecco quindi cose che non hanno senso e che erano erano sono state fatte però erano la traduzione meccanica della ricerca di tipo sperimentale dove ha senso fare un gruppo di confronto un gruppo di controllo con gli interventi clinici e con la psicoterapia queste cose non possono funzionare perché non c'è un placebo della psicoterapia mi piace che David stia arrivando ora stiamo parlando del placebo che nella psicoterapia ha prodotto ricerche che facevano ridere se non piangere giusto? cioè dove c'era il placebo che era fare chiacchierare con la gente ecco la cosa paradossale è che per alcuni funzionava cioè per i depressi più lievi perché ci mettevano quelli più lievi chiaramente non potendoci mettere quelle a rischio di suicidio quelle le trattavano subito gli altri li mettevano nei gruppi placebo e questi qua nei gruppi placebo che facevano? parlavano chiacchieravano si confortavano a vicenda e funzionava bene come la psicoterapia poi si sono accorti che c'era qualcosa che non funzionava bene se andiamo in una logica esplorativa cioè quindi di processo l'altra logica che sto contrapponendo nettamente alla prima invece ci sono degli strumenti molto più qualitativi schede rating rating significa fatto dal terapeuta dallo psicologo in cui parla anche lo psicologo griglie di valutazione sono possibili confronti intra modelli sono possibili analisi qualitative per esempio di contenuto che sono le ricerche più attuali sulla psicoterapia queste sul processo addirittura con trascrizione di ci sono dei tedeschi che hanno fatto i tedeschi sono come sapete come i giapponesi che diceva prima sono molto più precisi hanno fatto addirittura trascrizioni di sedute che uno manco se le può leggere poi le hanno messe in un computer che fa l'analisi del contenuto e sono venute fuori tutte le varie procedure e tutti i vari cambiamenti che avvenivano durante ma questi sono tipi di ricerca che appunto richiedono che cosa valutare valutare aspetti osservabili quindi un rating di osservatori esterni in alcuni casi si fa in alcuni casi c'è il co-terapeuta che scrive che segna registrazioni audio-video come fanno spesso specialmente nelle terapie sistemiche vengono fatte regolarmente valutare oltre questi aspetti osservabili dall'esterno cioè da una registrazione noi prendiamo quello che vediamo funzionare ma non possiamo capire che cosa pensavano le persone evidentemente sappiamo come il figlio ha reagito all'osservazione del padre e così via lo possiamo scrivere però non possiamo sapere gli aspetti soggettivi per questo ci vogliono altri strumenti un self-rating del cliente un rating del terapista e poi valutare gli aspetti intersoggettivi quindi non solamente la parte dell'uno e la parte dell'altra ma la parte in cui si lavora insieme gli strumenti derivano dal modello teorico del ricercatore cioè ogni ricercatore si crea il suo modello la domanda è in alcuni casi funziona in alcuni casi no devono essere quindi condivisibili quindi prescindere dal modello teoretico questa è una domanda molto importante perché sulla ricerca in psicoterapia questa cosa pesa tantissimo se uno fa parte di un certo tipo di modello segue un certo schema questo si può confrontare poi con un altro no e si producono quei fenomeni si producevano quei fenomeni inizialmente quando si faceva quella ricerca di tipo efficace un autore la chiamava la corsa dei cavalli ogni cavallo vediamo chi arriva prima c'è una specie di gara in cui horse racing veniva determinata e poi si arrivò al famoso per detto di Dodo Dodo chi era? l'uccello di Alice nel Paese delle Maraviglie che dopo quando fecero quella gara scombinata ve lo ricordate ognuno correva per conto suo alla fine non capendo quali erano i criteri tutti hanno vinto e tutti hanno il premio questa frase è il titolo di un articolo scientifico pubblicato tanti anni fa in cui quest'autore ironicamente diceva nella psicoterapia è così se ognuno si dà le sue regole è chiaro che tutti vincono e quindi che senso ha ma non ha senso la gara perché non è una gara ognuno deve dimostrare che usa il suo metodo scientificamente che è ben diverso di dire chi riesce meglio stavo facendo una battuta che diventava un po' volgare poi non è questo lo scopo della ricerca in psicoterapia lo state vedendo che è diversissimo dagli studi di ricerca sperimentale di cui si è parlato ecco noi stiamo andando a cercare qualche cosa che possa essere fatto dai terapeuti non dallo scienziato che lavora dall'esterno guarda e scrive gli strumenti devono essere condivisibili quindi per scopo di valutazione di esito le stesse variabili gli stessi strumenti ci vuole un protocollo comune e questo è giusto che ci sia la valutazione di esito si deve fare mica si deve cancellare quindi test psicomedici test per la coppia e la famiglia test per il gruppo per il processo bisogna andare a un'analisi di significati che sono un'altra cosa dei sintomi i significati che devono essere a questo punto differenziati in base al modello non possiamo chiedere possiamo chiedere a uno psicanalista e a un comportamentista cito proprio due casi estremi che non esistono più in realtà in natura comunque due casi si possono mettere d'accordo sulla valutazione sintomatica quindi prendendo la scala di depressione del CBA con i criteri psicometrici e utilizzandola lo fanno lo abbiamo fatto anche noi mentre per capire i significati che si veicolano durante il processo è chiaro che ognuno deve utilizzare dei criteri diversi e qui non è chi vince non è chi è più forte quindi ci vogliono degli strumenti per l'analisi della relazione riepilogando spero di avervi confuso abbastanza la testa ma questo è proprio lo scopo fatto apposta perché se uno non si confonde vuol dire che sta dicendo cose scontate tanti aspetti da valutare per tanti obiettivi e quindi tanti strumenti alla base ci sono tanti costrutti spesso di significato analogo ma operazionalizzati in modo diverso nelle diverse teorie e vi farò un esempio ora che un esempio più un poco pratico di questo dico tra parentesi che noi questo lavoro che vi sto raccontando in pochi minuti pochi insomma questi minuti che abbiamo lo abbiamo fatto in tanti anni di ricerca in quel progetto sulla psicoterapia che forse Paolo si ricorderà che si chiamava progetto Valter Valter non era il nome di una persona ma era valutazione delle terapie psicologiche che andò avanti da tanti anni da quando iniziamo a Palermo negli anni 90 pensate i primi anni dell'SPR di quella società dell'SPR quindi 94 95 e da allora poi andato avanti con terapeuti di tutti no tutti tra la maggior parte degli orientamenti avevamo comportamentisti cognitivisti funzionali corporei avevamo sistemici relazionali psicanalisti psicanalisti di vario tipo e così via tutti a studiare come si poteva fare sono usciti dei libri anche poi su questo argomento e quindi un progetto in cui però lavoravano i terapeuti i terapeuti prendevano i dati all'interno del loro lavoro non che c'erano il gruppo sperimentale il gruppo di controllo il placebo il non placebo c'erano le terapie fatte dalle persone dalle persone reali quelle che lavoravano con noi che partecipavano a questo e quindi abbiamo avuto modo anche di riflettere su quali strumenti potevano essere utili c'è un libro con tutti questi strumenti che raccontano l'esempio che vi volevo fare la relazione terapeutica sappiamo tutti che la relazione terapeutica è la cosa che fa funzionare una psicoterapia o non la fa funzionare un intervento clinico in generale la relazione terapeutica è la base quello che avviene all'interno di una terapia cioè il terapeuta e il cliente è stato concettualizzato e definito in modi diversissimi ve ne cito i principali guardate quante sono intanto il transfert il contro transfert che l'ha scoperto il grande il grande proiette giusto e tutti quelli che vengono dopo quindi transfert e contro transfert erano un modo di chiamare la relazione terapeutica qualcuno la chiamò self disclosure del terapeuta che corrisponde a un'apertura da parte del cliente qualcuno la chiamò empatia un fattore a specifico rispetto alle tecniche ma anche la parola empatia è a specifico poi attaccamento quando andò avanti allora il legame che si forma in terapia sul modello dei legami preesistenti e ricostituiti la compliance al trattamento che è una forma di relazione perché la compliance del paziente del cliente dipende anche da come viene presentata questa psicoterapia quindi dall'altra parte qualcuno l'ha chiamata legame collaborativo qualcuno l'ha chiamata metacognizione reciproca cioè ognuno dei due comprende che cosa sta pensando l'altro e finalmente si arrivò a quella definizione che tutti condividiamo oggi che è la parola alleanza terapeutica l'alleanza terapeutica coinvolge un'intesa tra terapeuta e cliente sugli scopi e i compiti del trattamento quindi scopi e compiti bisogna condividere nell'alleanza terapeutica anche che stiamo facendo dove vogliamo arrivare il cliente il cliente quando viene dice dottore io non dormo la notte dove vogliamo arrivare voglio dormire basta che mi sta contando ci pensi lei e vede che cosa dobbiamo fare non mi pare che ci sia molto da condividere poi uno gli deve dire sì ma forse tu non dormi la notte perché di giorno fai cose e allora tutto questo comincia un discorso diverso che poi riportarlo sulla ricerca non è semplice ma si può fare quindi implica una relazione positiva sul piano affettivo e sul piano interpersonale questa relazione positiva è dimostrato dalla ricerca in psicoterapia che è quella che fa funzionare la psicoterapia pensate che in uno degli ultimi libri di quei libri che vi ho mostrato prima si dice che in percentuale per tutte le psicoterapie quindi facendo una media di tutte le psicoterapie questo incide per il 50% cioè la metà della relazione in alcune di più in alcune di meno per esempio hanno visto che in terapie per esempio con le tossicodipendenze questa percentuale è di meno però diciamo mediamente il 50% le tecniche cioè quelle che uno impara quando fa la scuola di psicoterapia varrebbero per il 30% quindi spiegano il 30% dei risultati l'altro 20% lo sapete che cos'è? i fattori casuali uno è vinto la lotteria si separa dalla moglie si trova un amante tutto quello che può succedere di buono nella vita può anche sto banalizzando chiaramente però capite sono fattori aspecifici vengono chiamati completamente aspecifici la tecnica che è quella che noi crediamo che funziona e quelli dei manuali ci credevano tanto tant'è che scrivevano i manuali vale vale sì ma per il 30% però quindi cosa significa? significa che uno deve imparare la tecnica ma deve imparare anche a relazionarsi tutto questo si può documentare è studiabile empiricamente? sì pur che ci sia un rigore metodologico assicurato da un adeguato controllo delle variabili quindi dobbiamo imparare mentre facciamo la psicoterapia a controllare le variabili e questo lo può fare chiunque non il ricercatore di mestiere soltanto come qualcuno pensa cioè controllare le variabili significa tradurre in termini scientifici con degli strumenti appropriati che cosa sto facendo su che cosa sto lavorando stiamo lavorando sull'insonnia o stiamo lavorando su altre cose diciamo che che qualunque terapeuta lo fa poi io non posso pensare che ci sia un terapeuta che applica le tecniche senza pensare a questo le possibilità di controllo intersoggettivo delle procedure cioè che qualcuno mi possa verificare quello che sto facendo sarà il supervisore per esempio inizialmente perché molti modelli anzi quasi tutti richiedono la supervisione perché ora anche nei corsi di laurea ci vuole la supervisione perché ci vuole qualcuno che ti dica stai seguendo una via giusta cioè qualcuno dall'esterno ok altrimenti sarebbe autoreferenziale e quindi non scientifico sistematicità e coerenza della raccolta di dati e quindi uso di approvati strumenti di assessment e qui ce ne saranno ora ve ne parlerà chiaramente per il progetto specifico di cui parlerà Paolo Michelin vi dirà che ci sono degli strumenti ben consolidati già scritti non li cito neanche perché probabilmente non li citerà lui che conosciamo da tanto tempo che sono tradotti in italiano che si possono utilizzare che sono molto semplici che si possono fare facilmente e valutare facilmente quindi non è una cosa dell'altro mondo diciamo analizzare questi dati al fine di pervenire a valide deduzioni rispetto al modello teorico di riferimento torno a ripetere in questi casi il modello teorico è fondamentale cioè per spiegare se la mia terapia il mio intervento sta funzionando devo riferirmi al mio modello teorico non al DSM che è a teoretico DSM è utile per tante altre cose ma per valutare la psicoterapia no perché non ha una teoria di base per definizione cioè perché hanno voluto farlo non perché è un errore mentre invece noi se seguiamo un certo modello teorico dobbiamo sapere a che cosa stiamo cercando di arrivare perché abbiamo un modello della terapia perché abbiamo un modello della salute anche quello di cui parlava prima Davide ultimo punto il problema della generalizzazione voi direte ma se ognuno fa ricerca perché questa è un'obiezione facile diciamo che mi sarà venuta in mente penso se uno ha come diciamo lavora con pochi casi con i suoi casi come si fa a generalizzare cioè si può partire da casi singoli per arrivare a una conclusione generale si può fare attraverso lo studio di casi si possono fare inferenze sull'effetto ottenuto per quei soggetti e per quelle condizioni cioè io sto lavorando con quel paziente con quella e quindi voglio andare a vedere se sta funzionando con lui e questo è il primo punto scientifico pure scientificamente devo dire sta funzionando o non sta funzionando ma non si può dire da questo che tutte le terapie funzionano quindi sono due livelli come capite uno di tipo clinico uno di tipo ricerca generale quindi dobbiamo capire se si può generalizzare si può generalizzare si può generalizzare come? attraverso l'aggregazione anche di casi singoli mediante quella replicazione sistematica che ripete disegni sperimentali variando le variabili cliniche tu hai lavorato su una persona immigrata tu hai lavorato su un adolescente quel modello regge a tutti questi cambiamenti oppure ci vogliono delle modifiche cioè quando io faccio una terapia con un immigrato devo fare le stesse cose sicuramente no perché c'è una cultura diversa di base e quindi devo fare altre procedure e allora tutto questo amplifica vedete generalizzare significa questo significa ampliare i costrutti non ampliare i dati soltanto i risultati e dire che collimano perché quello è facilmente facile sull'outcome mentre significa costruire una mappa di generalizzazione cumulare delle evidenze significa aggiungere sensibilità ai risultati quindi nelle diverse maturazioni variazioni di soggetti di contesti che porta a quella che viene chiamata in termini tecnico saturazione del modello un modello teorico per esempio sull'ansia da prestazione facciamo un esempio pratico l'ansia da prestazione si può verificare nello studente a scuola nello studente universitario quando uno deve fare un esame di scuola guida quando uno deve fare deve suonare in pubblico quando deve fare una gara sportiva tutto questo è modello generale ovvio che ognuno si occuperà di un pezzo alla fine poi c'è un modello generale di come si tratta l'ansia da prestazione come si ci si arriva ci si arriva cumulando tutti questi aspetti specifici le diverse replicazioni di estensione quindi è come se fossero un unico metadisegno sperimentale che non ha bisogno di gruppi di controllo di gruppi di placebo il controllo è all'interno dello stesso disegno il controllo è fra una condizione e un'altra condizione a questa condizione ci vogliono certe cose a un'altra condizione ce ne vogliono altre così funziona la scienza e così funziona in particolare la scienza applicata alla psicoterapia concludo con questa parola magica che conoscete tutti l'avete vista anche nelle slide di Davide prima la parola metanalisi la metanalisi nasce negli anni 70 quindi è abbastanza giovane più giovane di me sicuramente anche perché l'ho studiata io quando ero grande sintesi e confronto sistematico di risultati quantitativi e qualitativi di una serie di studi devo finire giusto? no quando vedo la presenza di lui che si avvicina vuol dire no no è uno uno stimolo come diceva prima quindi confronto sistematico di una serie di studi sullo stesso argomento questo per capire che cosa parla la metanalisi due minuti me lo concedete perché ormai che l'ho scritto ve lo devo dire che cosa si fa nelle metanalisi che voi leggete ecco che si leggono ormai sono sterminate da tutte le parti si valuta una media ponderata degli effetti sperimentali intanto si parla di effetti sperimentali questi effetti sperimentali vengono ponderati nella media ponderati che significa se uno studio ha più campioni è chiaro che conta di più e quindi vengono ponderati sulla base di queste la dimensione dell'effetto che costituisce appunto un'unità di base esprime la quantità di variazione nella variabile dipendente spiegata dalla variabile indipendente questo è una terminologia molto sperimentalista per capirci significa quanto che cosa sta funzionando di una cosa quanta spiegazione possiamo dare della variabile dipendente cioè dell'efficacia del trattamento e questo è il primo punto il secondo punto che è molto più interessante del primo secondo me e secondo tutti è l'esame della variabilità perché vi ho detto prima quando noi cumuliamo dati che prendiamo noi stessi uno lavora su una cosa uno lavora su un'altra cosa e poi bisogna fare un lavoro di sintesi andando a vedere quanto è la variabilità cioè quando si differenzia uno studio fatto torno sempre a ripetere l'immigrato perché è una cosa che in Sicilia ormai è diventata comune e invece sulle persone indigene senza offesa per il termine può essere spiegata da aspetti metodologici per esempio l'ambienza dei campioni l'attendibilità cioè andare a vedere questa variabilità da che dipende oppure da variabili presenti negli studi da cui gli effetti sono derivati per esempio quello che io io terapeuta ho fatto con quel tipo di paziente diventa un moderatore se l'hanno fatto anche altri diventa un moderatore comune e quindi questa fa la metanalisi da una media generale dell'efficacia e poi mi dice attenzione perché questa efficacia non è sempre la stessa funziona in alcuni casi in un modo in alcuni casi in un altro vi raccontavo prima che per esempio l'efficacia della relazione terapeutica è dimostrato empiricamente che nel caso delle tossicodipendenze è molto più difficile da ottenere proprio in tutte le ricerche fatte nel mondo quindi questi sono effetti moderatori quel tipo di terapia ha dei problemi particolari ecco questo parlo della metanalisi se l'effetto medio è sufficientemente robusto cioè questa terapia funziona oppure no è giusto in che misura l'effetto si differenzia negli studi esaminati e poi anche come questa variazione si può correggere cioè come si può modificare se se ci accorgiamo che l'ansia da prestazione in alcuni casi richiede trattamenti diversi cioè che so che non mi basta il training autogeno ma ci vuole la mindfulness allora dico a tutti quanti pubblico una metanalisi dove dico guardate che in questo caso la mindfulness funziona meglio del semplice e così via se la variabilità residuo vabbè queste cose sono molto tecniche diciamo le perdite perché se no lui si avvicina ancora comunque sulla metanalisi ci sono tantissimi articoli e tantissime cose anche su wikipedia quindi siccome wikipedia ormai è la bibbia della nostra vita quotidiana degli studenti universitari sicuramente perché se la copiano proprio integralmente ma anche nostra cioè se cercate metanalisi in lingua italiana vi spiega tutto quello che volete sapere come diceva Woody Allen sulla non sul sesso sulla metanalisi nel 21 concludo con questa cosa è stato pubblicato quel volume che vi ho fatto vedere prima la settima edizione di quel manuale ricerca in psicoterapia vi dico solo quali sono le novità va bene perché se no è un malloppone così sugli studi metanalitici hanno trovato nuove tematiche proprio metanalitiche su questi studi che vi dicevo prima caratteristiche dei terapeuti efficaci cioè come è fatto il terapeuta che funziona meglio una bella domanda così dicevo cerco di avvicinarmi a questo modello approcci terapeutici personalizzati internet come strumento del trattamento questa è una cosa che è venuta fuori ovviamente dopo la pandemia ma non solo dopo la pandemia tenete conto che già prima se ne facevano tantissime intervenzioni dei paesi tipo l'Australia dove le distanze sono enormi dove la psicoterapia si faceva già prima in via telematica come aumentare i trattamenti che rispondono ai bisogni psicosociali non soddisfatti e qui rientra il discorso pienamente che faceva prima Davide cioè quanti bisogni ci sono nella società che non vengono soddisfatti o che vengono soddisfatti male e che quindi bisogna soddisfare con il behavior change che qua dice psicoterapia e behavior change non solo psicoterapia ecco questi sono alcuni dei temi queste meta-analisi da che cosa vengono? vengono da sintesi fatte da studiosi ma di lavoro fatto dai terapeuti non dagli studiosi stessi non so se è chiaro cioè non è una una cosa autoreferenziale che i professori universitari si mettono a fare la terapia che già lo fanno in alcuni casi e poi si fanno gli studi su se stessi su se stessi qualcuno se lo dovrebbe fare ma su 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 quello che che fanno loro ma sul funzionamento quindi ci sono due livelli due modi ma che si intersecano poi questi risultati vengono dalla terapia reale non da quella manualizzata conclusione la verifica empirica è essenziale per consentire il monitoraggio di quello che avviene in terapia e questo lo diceva già Freud quindi abbiamo detto che ogni ogni terapia è una ricerca che non viene pubblicata poi ma che uno deve fare però il confronto fra gli psicoterapeuti anche di diverso orientamento teorico e soprattutto e qui torno e concludo con il discorso di Davide la credibilità esterna nei confronti della comunità scientifica per esempio tutto il rapporto tra genetica ed epigenetica le neuroscienze la farmacologia cioè dimostrare siamo riusciti siamo modestamente riusciti a convincere Kandel il grande neuroscienziato Kandel il primo Nobel a scrivere una cosa in cui dice che la psicoterapia è un metodo efficace per cambiare il cervello e poi Le Duce ha scritto un libro su questa cosa cioè siamo riusciti a convincere i neuroscienziati che se la psicoterapia è fatta bene cambia le strutture cerebrali non solamente il comportamento ma degli utenti e dei committenti la domanda che faceva prima la gente ci crede alla psicoterapia eccetera se gliela raccontiamo bene probabilmente sì e poi dal più ampio contesto sociale che significa la politica che significa il bonus che significa tutto quanto io chiudo qui credo che ora si riprenderanno gli discorsi concreti il bonus è un'occasione di verifica nella commissione che sta valutando che cosa si deve fare per questo bonus stiamo pensando e questo lo dirà Paolo anche di inserire qualche cosa su questa verifica anche sappiamo già che molti psicologi sono retribili ma noi che dobbiamo fare dobbiamo perdere tempo a fare schede comunque ne parlerà lui dopo ecco questo invece nell'ottica che vi ho cercato di dimostrare è fondamentale è fondamentale per dimostrare poi che questa cosa funziona veramente e che quindi non sia la fine della pandemia e finisce pure la psicoterapia ecco l'altra cosa è quel progetto dell'EMBAP sulla come si chiama la borsa lavoro ecco che richiede pure lo stesso tipo di cioè per vedere se queste cose funzionano e dimostrare all'opinione pubblica e soprattutto ai nostri committenti cioè a chi ci finanzi e quindi ai politici dimostrare che queste cose funzionano è fondamentale nell'interesse nostro gli strumenti ce li abbiamo e il problema è avere la buona volontà di metterli in atto io vi ringrazio ho forse preso troppo tempo ma bene grazie al professor santo di nuovo con questo concentrato di lezioni sulla metodologia della ricerca e noi questo evento lo registriamo come gli altri lo metteremo sul canale youtube e credo che andrebbe rivisto più e più volte almeno io perché le cose dette poi non possono essere assimilate così in fretta grazie a tutti